bene ragazzi benvenuti sul mio canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video ragazzi adesso facciamo una bella cenetta con hamburger hamburger e patatine fritte ok iniziamo ragazzi allora per prima cosa versiamo l'olio versiamo l'olio olio di semi vari qua c'è già olio accendiamo il fuoco ci sono problemi tecnici niente non va ok niente ragazzi ci sono dei problemi no no c'è male ma non è molto meno è molto meno è molto meno Allora ragazzi, eccoci qua Sono dei problemi tecnici Ok Mettiamo il fuoco Mettiamo un po' di sale Mettiamo un po' di sale Un po' di sale qua Un altro po' Poi Facciamo Bagniamo con l'olio Bagniamo con l'olio La griglia, diciamo così Mettiamo un po' di olio che si sta asciugando Iniziamo a mettere su le patate fritte Facciamo la stessa cosa Mettiamo un po' di sale 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 Aggiungiamo un po' di sale mettere il cuore sul fuoco mettere il cuore sul fuoco mettere il cuore mettere il cuore spaccato mettere il cuore mettere un po' di aromi mettere un po' di aromi mettere il cuore e mettere il cuore mettere il cuore mettere il cuore Tutti allo stesso piano L'aroma sulla carne Mettiamo a friggere E un pollo E un pollo E un pollo Cerchiamo di girare la polghetta Il frattore un po' E poi raffichiamo il po' Buon appetito! Wow 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 questo è un piatto semplice un piatto semplice ci vuole un po' di sale 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 un po' di sale